Covid, i dati di oggi in Abruzzo, si registrano 27 nuovi casi. Al via oggi di esami di Stato, in Abruzzo sono quasi 11.000 maturandi. Incendi, ordinanza del sindaco di Avezzano con regole e divieti. Tecnica all'avanguardia, la INI di canistro per le operazioni di protesi alla spalla. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. In primo piano, come sempre, gli ultimi aggiornamenti sul Covid e rispetto a ieri si registrano quindi 27 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Sono complessivamente invece 74.523 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registrati tra i nuovi casi sale a 2.506. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 70.658 dimessi perché guariti, 42 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.359, 18 in meno. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 1.157.335 tamponi molecolari, 3.035 in più. E 482.608 test antigenici, 1.255 in più. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari allo 0,6%. 61 pazienti, 4 in meno sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3, 1 in meno rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.295, 13 in meno sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLA. Ed hanno preso il via di esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado con oltre mezzo milioni di candidate e candidati. A mezzo il 96, 2% delle studentesse e degli studenti. In Abruzzo sono 10.900 i ragazzi che sosterranno gli esami di Stato, 10.600 studenti interni, 300 esterni, 540.000 in tutta Italia. Le commissioni d'esame, composte da 6 docenti interni più un presidente esterno, sono 279. per un totale di 1.953 docenti distribuiti in 156 sedie sul territorio regionale. In Italia le commissioni saranno 13.353 per un totale di 26.555 classi coinvolte. E dall'assessore all'istruzione della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, arriva un augurio a tutti gli 11.000 studenti abruzzesi. Quello che voglio augurarvi, afferma Quaresimale, è che la prova di maturità non sia un punto di arrivo, ma solo l'occasione per ripartire, con la consapevolezza di essere grandi, di vestire ancora una volta i panni da protagonista di una sfida ancora più impegnativa. Qualcuno ha detto che gli esami non finiscono mai ed è così. Ma questo è il primo esame e deve essere un po' speciale, una prova necessaria per presentarsi con fiducia e consapevolezza a quel futuro che vi aspetta ed ha bisogno di voi. Colonina di mercurio in salita e il rischio di incendi sono in aumento. Per prevenire il pericolo fuoco, il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, in sintonia con le disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio, Regione, Provincia e Prefetto, e le indicazioni della protezione civile regionale, fa scattare l'ordinanza con le regole di vieti. La disposizione del primo cittadino in vigore fino al 30 settembre, fondata sullo stato di grave pericolosità per rischio e incendi sull'intero territorio comunale, obblighe possessori di boschi, terreni coltivati o incolti, prati e pascoli, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, ad adoperarsi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. Per prevenire il pericolo, quindi, i proprietari e possessori dei terreni a qualsiasi titolo sono chiamati ad effettuare opere di ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva. In caso di incendi causati da negligenza o inosservanza delle prescrizioni, saranno ritenuti responsabili dei danni. Scata anche lo stop alla bruciatura delle stoppie di altri residui di lavorazione agrosilvopastorale, da sempre tra le principali cause della diffusione degli incendi boschevi sul territorio, assieme alla mancata bonifica dei terreni agricoli. Vietata anche l'accensione di fuochi, l'utilizzo di apparecchi a fiamma o elettrici, che producano faville o braccia presso luoghi ad alto rischio incendio, il lancio di fuochi di artificio e lanterne cinese, lo spero di petardi e salvo speciale licenza, non anche fumare nei luoghi ad alto rischio, come la riserva del Monte Salviano o la Pineta, gettare i fiammiferi, i sigari o sigaretta accese da veicoli in movimento. E spazio ai colori dell'arcobaleno, alla fontana di Piazza Orlandini di Avezzano, simbolo dei diritti, troppo spesso negati, della comunità LGBT. La Commissione per opportunità del Comune apre quindi la porta alla richiesta dell'Associazione LGBT della Marsica di esporre i colori della bandiera arcobaleno in segno di solidarietà e vicinanza in un edificio o luogo pubblico della città fino alla fine di giugno. La scelta è caduta sulla fontana all'intersezione tra via 20 Settembre e via Garibaldi realizzata dalla prima amministrazione di Pangrazio. I colori dell'arcobaleno della fontana affermano Presidente e Vicepresidente della Commissione pari opportunità Concetta Dalsorio e Lorenza Panei vogliono testimoniare la vicinanza e la solidarietà a tutte le persone discriminate, nonché la speranza che si diffonda sempre più il rispetto dell'individuo e dei diritti universalmente riconosciuti al di là degli orientamenti sessuali, politici o religiosi. Il Comune di Avezzano quindi aderisce alla campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni lanciata dal coordinamento regionale Abruzzo Pride associazione che annovera anche Marsica LGBT. e operazione di protesi alla spalla con la tecnica all'avanguardia dell'inversione scapola-omero che consente il recupero della funzionalità dell'arto con un ritmo che non si è interrotto nemmeno nell'anno segnato dal Covid-19. accade alla casa di cura privata in Dicanestro. Ad attuare l'innovativo metodo è un medico considerato luminare della spalla, il dottor Andrea Grasso, 53 anni, specializzato in ortopedia e traumatologia, che guida un'equipe chirurgica nella clinica abruzzese ed è responsabile dell'ambulatorio di ortopedia delle INI, città bianche Veroli, struttura laziale del gruppo INI. Grasso è anche professore a contratto presso l'Università Tor Vergata di Roma ed autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. Nell'anno di Canestro, clinica privata che fa parte dell'omonimo gruppo nazionale fondata nel 1988 dal professor Delfo Galileo Farone. La chirurgia ortopedica è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e con le maggiori compagnie assicurative con 26 posti letto a disposizione. La protesi inversa è una delle peculiarità Canestro al fianco della protesi anatomica, ovvero tradizionale, che rispetta la normale anatomia dell'arto. L'attività non si è interrotta nemmeno durante l'anno segnato dal Covid grazie a rigorosi protocolli di sicurezza volti ad evitare contagio e focolai che hanno consentito, nonostante la pandemia, di mantenere pressoché inalterato il numero di interventi, molto importante, di spalla, anca e ginocchio. E al via l'operazione europea Alcool Drugs, l'iniziativa europea di sensibilizzazione contro la guida in stato di ebrezza alcolica organizzata da Rodpol. Fino al 22 giugno, coordinati del compartimento Polizia Stradale di L'Aquila sono in atto, anche nella provincia di L'Aquila, controlli a tappeto che vedono impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade del paese. Domenica 20 giugno la Polizia Stradale sarà impegnata in una vera e propria maratona di controlli che si svolgeranno nell'arco delle 24 ore. L'obiettivo dell'operazione contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d'Azione Europeo 2021-2030 con l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero di feriti gravi in Europa e nel mondo. E con le riaperture apportate dall'attuale disposizione in materia di contenimento della diffusione pandemica del virus Covid si sta verificando una riattualizzazione dei fenomeni criminali quali il problema dei forti in abitazione che in passato ha già interessato il territorio in special modo l'Aquila e i comuni della Piana di Navelli per far fronte a questa muovere crudescenza in atto il comando provinciale di L'Aquila ha disposto una serie stringente di accertamenti finalizzati al monitoraggio e al controllo sia di soggetti locali già noti per la particolare inclinazione a commettere lo specifico reato sia di eventuali soggetti estranei alla provincia aquilana e con precedente di polizie specifici ieri sera al termine di una vasta operazione che ha visto l'impiego di 34 carabinieri nella città di L'Aquila e le comuni limetrofi il comando Compagnie di L'Aquila ha effettuato numerosi controlli e verifiche il comando stazione di San Demetrio e Onevestini nel corso di un controllo in un otto bar del centro ha denunciato in stato di libertà un 48enne il quale in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche ha minacciato e oltraggiato i militari operanti sono state 32 vecoli fermati a Campione che hanno permesso di elevare 6 sanzioni per infrazioni al codice della strada tra le quali va dato rilievo ad un fermo amministrativo di un mezzo condotto da un soggetto che circolava con la patente sospesa e c'è un'ulteriore proroga per la riscossione delle borse di studio legate al programma ministeriale Io studio la nuova data di scadenza è stata fissata al 31 luglio prossimo e riguarda gli anni scolastici 2017-2018 2018-2019 2019-2020 cioè tutte le annualità delle borse di studio attualmente in riscossione in Abruzzo servizio istruzione della regione Abruzzo invita per quegli studenti delle scuole secondarie o i loro genitori a ricarsi presso qualsiasi ufficio postale senza necessità di utilizzare o esibire la carta dello studente Io studio ma semplicemente richiedendo all'operatore di sportello di incassare il bonifico domiciliato erogato dal ministero dell'istruzione E torna quest'anno il premio Giuseppe Corse Città di Celano ottava edizione dopo la pausa del 2020 dovuta come sappiamo all'emergenza sanitaria causata dal Covid notte di un solstizio d'estate questo è il titolo del concerto di premiazione nella chiesa Santa Maria Valeverde che sarà trasmesso lunedì 21 giugno alle ore 21 in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Celano quest'anno il premio Giuseppe Corse Città di Celano dopo il lavoro di selezione delle candidature è stato assegnato al giovane musicista percussionista Pierluigi Tomassetti giovane emergente di un'importante famiglia di musicisti che da tre generazioni contribuisce a diffondere e coltivare la cultura musicale della città di Celano il premio Giuseppe Corse Città di Celano la carriera è stato attribuito al soprano professoressa Bianca d'Amore per aver condotto una brillante carriera artistica come soprano solista in Italia e all'estero e per l'attività che continua a svolgere inoltre quest'anno è presente anche il premio Giuseppe Corse Città di Celano alla memoria attribuito a Domenico Giuliani un indimenticabile organista nelle chiese della città di Celano particolarmente rilevante il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Diputati che ha inviato quale dono di rappresentanza la medaglia originale celebrativa del 2021 che sarà consegnata al vincitore maestro Pierluigi Tommassetti nel corso del concerto di premiazione e sabato 19 e domenica 20 giugno la Scuola di Musica di Music Place presenta la Master Class Into the Grove del tastierista Michele Papadia la Master Class organizzata dalla Scuola Diretta dal Maestro Alberto Bianchi si svolgerà presso il Castello Orsene e nella sede della Scuola di Avezzano in via Don Luigi Sturzo si incentrerà sulla Black Music sui vari linguaggi di matrice afroamericana è un tastierista italiano profondo conoscitore della musica afroamericana in particolare di tutta la Black Music il tastierista ha l'attivo oltre 50 incisioni in qualità di Sideman e due in qualità di leader e compositore l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara unico tra di Ateneia e Abruzzesi entra per la prima volta nella classifica delle mille università migliori al mondo e quanto emerge dai risultati appena pubblicati da QS più prestigioso e selettivo dei ranking internazionali tra le università italiane solo 41 risultano classificate in QS World University Rankings i parametri che vengono valutati sono la reputazione accademica determinata mediante questionari a docenti delle altre università nel mondo l'efficienza dei servizi amministrativi il rapporto tra il numero di docenti e studenti ma anche le citazioni dei prodotti di ricerca l'internazionalizzazione in termini di rapporto tra numero di docenti italiani e stranieri impiegati presso l'Atenei e il rapporto tra studenti italiani e quelli stranieri nasce l'albo dei soggetti promotori dei tirocini il Dipartimento Lavoro ha deciso di istituire un albo regionale dei soggetti che sono autorizzati ad attivare i tirocini extracurricolari nella regione Abruzzo in questo senso gli enti e le società interessate a far parte dell'albo devono rispondere alla manifestazione di interesse e presentare tutta la documentazione richiesta le domande di inserimento devono essere presentate sulla piattaforma informatica sportello regione Abruzzo a partire dal 21 giugno fino al 31 agosto prossimo gli uffici regionali informano che trattandosi comunque di un albo aperto dopo il 31 agosto verranno pubblicate altre manifestazioni di interesse l'albo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Burat regionale dalla data di entrata in vigore dell'albo i tirocini extracurricolari di qualunque tipologie attivate in regione Abruzzo sia autofinanziati che finanziati possono essere promossi esclusivamente dai soggetti iscritti all'albo appena il previsto regime sanzionatorio questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti come sempre vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennadwitv.it o sulla nostra pagina facebook antena 2 Avezzano grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci